Ben trovati all'appuntamento con dentro il Consiglio, il settimanale TVRTL Italia 7 Gold che vi porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Anche questa settimana nel nostro approfondimento politico parliamo di tre tematiche che sono state affrontate recentemente proprio all'interno del Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana. Il primo argomento ci porta a parlare di una legge che è stata approvata per contenere particolato e biossido di azono, quindi si di un inquinamento, ma saremo più precisi tra poco. Invece arriva la parola e sono stati ascoltati i medici, i infermieri e gli operatori, gli addetti ai lavori all'interno della Commissione Sanità per sapere come si sta vivendo questo momento e le problematiche che ci sono all'interno dei pronto soccorso. La Via del Futuro è un nuovo bando del Consiglio regionale con dei soldi, 1 milione e 50 mila euro a disposizione dei comuni toscani. E quindi l'aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza con 21 voti a favore, 11 contrari e 2 astenuti, la proposta di legge che introduce nuove disposizioni per il rispetto dei valori limite per il materiale particolato, il famoso PM10 e il biossido di azoto, il NO2, nelle aree della Toscana dove questi sono stati superati per un numero di giorni maggiore di quello che ho sentito. Vi diciamo subito che per il particolato interessa 14 comuni della nostra regione nella Piana di Lucca e nella Val di Nevole in provincia di Pistoia. Le principali misure riguardano la limitazione all'uso degli impianti di riscaldamento alimentati a biomasse vegetali come ad esempio i camini o le stufe non all'elevata efficienza quando però questi non costituiscono l'unica fonte di riscaldamento domestico. I punti principali sono una modifica alla legge 74 che imponeva già tenendo conto dell'infrazione che abbiamo come regione toscana per l'emissione in area di PM10 oppure di biossido. Oggi siamo intervenuti soprattutto sulla parte che riguarda la Piana Lucchese e Val di Nevole dove in quei territori ci saranno da parte dei sindaci, ci sono stati da parte dei sindaci, dei divieti di accensione di cammini nelle abitazioni, nelle sole abitazioni dove il cammino non è unico sostentamento dal punto di vista del riscaldamento, quindi quelle abitazioni sono escluse, verranno emesse delle ordinanze sindacali quindi da parte dei sindaci che vieteranno oppure limiteranno la possibilità di accensione per quei cammini che sotto le tre stelle, è così una classificazione che viene fatta normalmente, emettono in area queste polveri che sono davvero dannose per la salute. Questo risultato viene dal progetto patos tenuto dall'Università di Firenze, da questo studio si evince una responsabilità di questo tipo di attività quindi dell'accensione del cammino di oltre il 53%, l'altro 47% deriva dall'erosione della crosta terrestre ma qui naturalmente la regione toscana non può farci nulla. C'è un problema di salute quindi cosa ha deciso la regione in collaborazione con il Ministero di intervenire in quei territori attraverso dei bandi che verranno fatti, i cittadini possono sostituire o ammodernare il cammino con nessun costo tenendo conto dell'Isee perché ci sarà uno sconto da parte dei fornitori quindi non dovranno anticipare nessun soldo, siamo attraverso il lavoro che abbiamo fatto Commissione siamo riusciti a cambiare cioè non ci sarà un anticipo da parte del cittadino ma ci sarà uno sconto da parte dei fornitori quindi non costerà niente a determinate categorie di cittadini cambiare il cammino lo potranno quindi continuare una volta fatto il lavoro continuare ad accendere e questo significa intervenire sulla salute di quei cittadini davvero il rischio è molto alto e l'incidenza delle malattie è molto alta. Sì ma c'è stato un miglioramento di un testo, un lavoro lungo, noi siamo stati i primi come forza politica al Consiglio regionale a opporsi a un quadro normativo che imponeva diciamo lo spengimento dei caminetti soprattutto nelle aree diciamo di Pistoia e di Lucca e la nostra mozione, il nostro atto ha fatto interloquire l'assessore con il governo, abbiamo provato anche a livello comunitario di agire su una normativa, il testo che arriva in fondo prende atto anche delle nostre richieste di modifica della dimensione sanzionatoria, è evidente che si va nella direzione di fare il massimo per la tutela di carattere ambientale e nello stesso tempo condividendo e convivendo con un quadro ovviamente infrastrutturale di molte famiglie, di abitazioni che devono fare interventi di adeguamento al loro interno quindi serve anche un po' di prudenza, è evidente che adesso dalla bella stagione non ci saranno più un problema così tassativo, la questione poi ripartirà a settembre, nel frattempo abbiamo un quadro normativo adesso più certo che ci consente di agire, di non avere delle sanzioni, di spendere dei risorsi per fare elementi di incentivazione, per sostituire quei caminetti che non sono più a norma e credo che questo possa essere un tempo debito per fare questi interventi, valuteremo poi a settembre se siamo nelle condizioni di proseguire o rendere efficace la normativa o se chiedere eventuali ulteriori dilazioni poi è evidente che poi ci sarà un momento in cui la normativa diventerà efficace. Se Regione Toscana avesse operato dal 2009 al 2023 quanto stamani ha dibattuto in aula sulla PM10 è probabile che nella Piana di Lucca sarebbe venuti dal Trentino a respirare la nostra aria. Così non è, Fratelli d'Italia ha espresso un voto contrario su una legge che scarica sui comuni, addempimenti che i comuni non sono in grado chiaramente di poter eseguire per le note carenze del personale che sostanzialmente vanificano le misure fino ad oggi prese per contrastare il livello delle PM10, siamo appunto a capo. Grandissime disponibilità a ragionare con l'opposizione quando non si hanno risposte e in altri casi, l'abbiamo visto per il nome dell'ATC, l'assoluta incommunicabilità per tutto quello che invece fa sostanzialmente il gioco politico di questa maggioranza. E molto probabilmente bisognerebbe pensare a quello che è il problema infrastrutturale regionale, al problema della mobilità, dove anche qui la Regione Toscana è in forte ritardo. Come è in forte ritardo? È stata in forte ritardo sui controlli in tutti questi anni riguardo alle PM10. Quindi oggi la Regione Toscana probabilmente spinta dalle sentenze, dai provvedimenti che vengono dall'Unione Europea e che sono causa dei ritardi della stessa, ebbene va a far ricadere sulle spalle dei cittadini e sulle spalle degli amministratori pubblici costi e elementi organizzativi che probabilmente non saranno in grado di sopportare. E lo fa nel momento di maggiore crisi economica che fa seguito alla pandemia. Non potevamo ovviamente sostenere questo tipo di provvedimento, al di là che siamo assolutamente attenti ai temi della salute, e lo dimostra l'intervento importante che sta facendo il Governo nel centro-destra. Ancora un grido d'allarme sulla sanità, in particolar modo sulla sofferenza dei pronto soccorso. A lanciarlo sono stati gli addetti lavori che sono stati ascoltati all'interno della seduta della terza commissione. Un momento di confronto molto importante, ma ascoltiamo che cosa è avvenuto. Sì, è stato un momento interessante, ovviamente sono venute fuori molte questioni legate al personale, alla necessità di risorse, e poi focalizzate soprattutto sul pronto soccorso, sul quale ognuno ha proposto alcuni aspetti, alcune misure, dando sostanzialmente un giudizio di attesa rispetto alle misure che la Giunta vorrà perdere in atto e con grande attenzione anche rispetto alla PDL, alla legge che potremo approvare per rafforzare, per incentivare chi lavora in pronto soccorso. E quindi diciamo che ci siamo lasciati con un'attesa di quelle che saranno la concertazione delle misure della Giunta per capire se risponderanno davvero a questi bisogni e ovviamente principalmente per quanto ci riguarda per il lavoro di approvazione della legge sui pronti soccorsi che appena arriverà in Giunta, penso nei prossimi giorni, avvieremo immediatamente un'Italia di approvazione nel quale riconvolgeremo tutte le rappresentanze sindacali. Non è solo un problema economico, lo stiamo dicendo ormai da tempo, è un problema economico e organizzativo. Il vero vulnus del nostro sistema di cure pubblico è che il modello organizzativo sul quale si basa è un modello organizzativo che necessita di una profonda ed immediata revisione, sia in termini di ruolo professionale dell'operatore sanitario, quindi del medico e del dirigente sanitario, sia in termini di offerta di cure. Un'offerta di cure che non può prescindere da una integrazione ospedale-territorio reale, non solo nel campo delle emergenze, e che non può prescindere da una ridefinizione del ruolo dell'ospedale che oggi si è ridotta ad essere un ruolo da una parte marginale per l'offerta di cure e dall'altra parte è un luogo di cura poco sicuro, poco appetibile per il medico, troppo frequentato in maniera molte volte anche impropria dal paziente, in cui il pronto soccorso è l'unica porta di accesso ormai in ospedale. Deve cambiare il paradigma. Pensiamo di questa proposta, alcuni aspetti sono da prendere molto in considerazione, ma c'è un grosso problema che è quello della obbligatorietà del 50% di prestare servizio nel pronto soccorso nel 50% dell'orario lavorativo dei colleghi che non hanno la specializzazione in pronto soccorso e medicina d'urgenza. Questa è una cosa che andrà profondamente rivista perché non siamo favorevoli a disposizioni che siano obbligatorie, ma devono essere date delle opportunità e queste opportunità devono essere adeguatamente incentivate. Il Consiglio regionale della Toscana ha lanciato la Via del Futuro. La Via del Futuro ritorna anche per quest'anno questo bando dell'Assemblea Legislativa che mette a disposizione dei comuni toscani le risorse che sono derivate dall'avanzo di amministrazione, un contributo fino a un massimo di 15.000 euro per ogni singolo progetto. Sono 1.050.000 euro per promuovere e sostenere progetti volti alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, accesso alla cultura, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, regionale, di tutte le identità del patrimonio toscano. Alla mobilità sostenibile, ad esempio la posa in opera delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ad esempio, sono destinati 550.000 euro complessivi, 200.000 euro alla promozione della lettura, 300.000 euro a quella che è l'inclusione scolastica. Insomma, ascoltiamo queste vie del futuro 2023, cosa porteranno ai nostri comuni. Queste risorse che derivano dall'avanzo d'amministrazione, e lo spiego, lo dico alle cittadine e ai cittadini toscani, risorse e costi della politica che noi siamo riusciti a ridurre e che mettiamo a disposizione, attraverso le amministrazioni comunali, delle cittadine e dei cittadini della Toscana. Circa un milione di euro per un progetto che chiamiamo la via del futuro, via come verde e il sostegno alla mobilità sostenibile, inclusiva, così mettendo a disposizione risorse per arredo scolastico per studenti con disabilità. È aperta, aperta come le pagine di un libro e quindi risorse che mettiamo a disposizione per la promozione della lettura. Insomma, la via del futuro è una strada da costruire insieme a tutti i comuni della nostra regione. Vanno importante che dimostra quanto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sia aperto elementi di innovazione, parla al futuro, parla ai giovani, parla all'inclusività, parla a una Toscana verde, a una Toscana che vuole essere innovativa. Lì sta la tematica del rispetto dell'ambiente con l'innovazione per quanto riguarda i veicoli elettrici, le opportunità per i comuni, per quanto riguarda anche le scuole, l'inclusività, la possibilità di fare degli arredi ovviamente per i ragazzi disabili ma non solo, incentivi anche alla lettura, quindi una risposta culturale, una risposta di inclusività, una risposta di opportunità, una risposta di futuro. Quindi un Consiglio regionale che dimostra che mette da parte le bandiere dei singoli partiti e che in maniera unanime riesce a dare delle risposte di innovazione a sostegno di interventi che fanno della Toscana una regione sempre più moderna, innovativa e sempre più in una regione d'Europa. Sono particolarmente contento che vi sia ancora attenzione ai ragazzi diversamente abili quest'anno per il mondo della scuola, per gli arredi. Abbiamo ciascuno di noi dato collegialmente un contributo importante per far sì che vi possa essere un'attenzione verso la Toscana del domani partendo dai giovani. La nostra attenzione continua a essere viva per le amministrazioni comunali. Ciascuna di esse potrà partecipare per un progetto fino a un massimo di 15 mila euro di contributo per quel progetto. Aiuti concreti, grazie ai risparmi della politica e una bella pagina che si rinnova anche quest'anno grazie appunto alla legge regionale numero uno per realizzare le finalità statutarie del Consiglio regionale. Come Presidente della Commissione Cultura sono molto contenta che l'Ufficio di Presidenza abbia stabilito questa misura di finanziamento attraverso i bandi su progetti dedicati alla lettura. Gli Stati Generali della Cultura che il Consiglio insieme alla Giunta sta portando avanti hanno individuato in una proposta di legge a mia firma ma poi trasversalmente accolta da tutti i colleghi della Commissione Cultura una proposta di legge al Parlamento sulla lettura nelle scuole. Una piccola rivoluzione che ci consente se il Parlamento vorrà approvarla di introdurre ogni giorno nel diario scolastico, nell'orario scolastico uno spazio di libertà per la lettura libera di ragazzi, ragazze e insegnanti. È una cosa piccola che però vorrebbe trasmettere il senso di una buona abitudine che i ragazzi possano cominciare ad avere di nuovo. Nasce da una buona notizia, dopo il Covid il pubblico dei lettori giovani è aumentato e il numero di libri letti annualmente è aumentato nella fascia di età più giovane. Quindi questo ci ha fatto pensare che con un po' di tempo a disposizione e una buona abitudine i giovani possono ricominciare a frequentare i libri su carta. E con la via del futuro si conclude anche il nostro approfondimento politico all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Vi aspetto come sempre tra sette giorni, sempre qua, dentro il Consiglio. Grazie a tutti.